No, penso proprio di no. Abbiamo qui i nostri bambini, la nostra bellissima giuria, ci sono le decorazioni natalizie, questo significa che fra Natale e Capodanno esattamente il 28 dicembre, su canale 5 alle 20.40, e ci sarà pure Giorgio Paletti, noi arriveremo con le nostre canzoni sotto l'albero. Ciao! Grana Padana, mille anni di gusto italiano. Design modernissimo, ecco la pesapersona elettronica Rovenda, altissima precisione elettronica. garantita da Rovenda. Rovenda, per chi non si accontenta. Papà, cosa fai? Una sorpresa alla mamma. Cos'è? Filtrofiore Bonomelli. La camomilla con i fiori tanti. Papà, ci sono davvero? La vera camomilla filtrofiore è solo quella con i fiori intanzi e la scritta Bonomelli. Sei una leggetta. È uno dei nostri. Un duro. Certo. Per chi lavori adesso? Mi sono ritirato. Ha ritirato. Ha detto che è un amico. Credete di essere dei pezzi grossi? Allora morirete da pezzi grossi! Con dolci e decorazioni, tante ricette per fare dolci squisiti e tutti segreti per decorare. E con i fascicoli, i 15 strumenti del pasticcere. Dolci e decorazioni e in edicola con la tasca del pasticcere a sole mille litri. Idea donna. È dal 1860 che in casa Pernigotti si ripete l'antica magia del turrone. Fatta di zucchero, miele, albume, mandorle e noccioli. Torroni e torroncini Pernigotti, dal 1860. La dolcezza italiana. Su ogni vaschetta di parmacotto, un punto da raccogliere, per ricevere i piatti in gran portata, il figlio Porcellana. E Starboy, il videogame pascabile per tuo figlio, con due cartucce intercambiabili. Ecco questo delitto, no? Solo questo è il paraflù. Fatevi rispettare. A te il paraflù. La moda è bella perché varia. Allora varia la vita con PINCO. PINCO la mattina, PINCO il pomeriggio, PINCO la sera. Fai come me. Varia la moda con PINCO. C'è un formaggio buono, è originale, è MESA, se lo facci, te ne accorgerai, è MESA. Femmina è migliore, è di questo contente sia. Dalla Valle dell'Emmental, è MESA. E' MESA. insieme, regalano uno straordinario Oscar Mondadori, a scelta tra 12 capolavori per tutti. Finalmente sei arrivato. Già. Sei qui. Ti ricordi sempre? D'oro più il panettone. E il libro? Oh, che caro. Adesso è Natale. Un Natale da leggere. E un regalo sicuro. Motta. Prossimamente, su Canale 5, un nuovo grande racconto per la tv, amori, gelosie, vendette. Una storia appassionante, tragica e romantica. Canale 5 presenta un nuovo teleromanzo italiano. Una produzione ricca, un cast prestigioso. Passione, prossimamente, su Canale 5.